Ho creato un secondo canale chiamato NicoMGArchivio in cui tutti i giorni riposto i VOD per intero di tutte le live che faccio su Twitch. Lo trovate linkato nei commenti. 10 partite ad Apex senza tagli. Come funziona questa serie? Ad ogni episodio aumento di 1 il numero di partite. Se volete che questa serie continui, se volete obbligarmi a fare un video da 20 ore con 100 partite, supportate questo video con un mi piace e un commento che aiuta per l'algoritmo. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e se siete interessati vi aspetto tutti i giorni in live su Twitch. Sì sì ma io l'ho detto, io prima del gol di gatti avevo le lacrime per il nervoso. Sono proprio incazzatissimo, sono nervosissimo stavo prima del gol di gatti. Avevo le cazzo di lacrime agli occhi dal nervoso. Io sono il re del ghosting. Ma poi sti falliti, sti coglioni, sti coglioni che quando fa gol gatti, figa, si lamentano perché il recupero è stato allungato. Ma giocate, Dio caro. Cioè giocate prima. Cioè non è che prima perdono tempo, fanno i falli e cacciano via il pallone e poi si lamentano se da 30 secondi extra di recupero. Ma giocate prima se non volete i secondi extra di recupero, Dio caro. Spagnoli di merda. Cioè immaginati, immaginati perdere tempo su tutte le rimesse, su tutti i rinvii, ogni volta che c'è il pallone vicino per le punizioni degli altri gli edo scalci. E poi ti lamenti che allungano il recupero di 30 secondi, ma giocate prima. Ma Codo, anche io al novantottissimo dovevo insegnare, altro che al novantasette, zio porco. Ciao Pixel. Al novantotto, zio porco, dovevo insegnare, altro che... Madonna. Ma Pogba al di là, al di là del gol che palesemente voleva passarla, cioè ha fatto proprio... God, però è tipo prima quando ha fatto l'azione quella che ha palleggiato per... Per 20... Madonna. Che ha palleggiato il pallone tipo 6-7 volte con la testa con due giocatori del Siviglia addosso. Che cazzo stai dicendo? Ma poi il tunnel di tacco in girata, cambi di campo no look, quanto cazzo è forte tecnicamente Pogba, porco cazzo. Penso sia veramente assurdo. Veramente incredibile quanto è forte tecnicamente. Ma ovviamente queste arrivano a farsi scopare. Ma infatti ma non aveva senso. La loba la stavo colpendo, era pure... Era pure... Sburrata. So che non ho capito perché cazzo si sia buttata quella, infatti. Se avevo questa è vuota, se vuoi ti do un Phoenix. Solo anch'io volendo. Vabbè. Davanti a me. Non capisco se è sotto o sopra. Sotto sotto, non c'è l'abilità di ballistica. Sarvano sopra ogni sora. Ma magari. Magari mi salisse qua, non uscirà mai. Erivo. Sto scemo. 1 da presto, 1 da presto, 1 da presto, 1 da presto. E' 1, e' 1. Tutta la di merda, mi stava confermando. Beccala. No, non è lei, aspetta 2. Ah, ma tanto c'è colpi infiniti durante tutta l'ultimate. Io e' c'è... Beh, minchia, ballistica è la leggenda finale per tibergare la gente. C'hai 30 secondi di colpi infiniti per sparare sulle casse. C'hai 30 secondi di colpi infiniti per sparare sulle casse. Che voglia, cane. Non ci avevo mai pensato a questa cosa, madonna. Veste leggenda, zioca. Quintala! Minchia, 30 secondi di tempo per sparare sulle casse. Non sprechi nemmeno i colpi, che figata. Bota, prego. Ti ho dato una tecnica da main ballistic, se non la conoscevi già. Minchia. Che goduria. E via. Ah! Che zaino oblo. C'è uno zaino viola là dentro, completamente libero. Che ovviamente non prenderò. Eh, una cassa dorata! Eh, GG. A me serve un caricatore leggero. Anche bianco. Tripo. Craccato! Eh, però c'è quello col triple deck. No. Oggi è la giornata del tilt. È conto quell'arbitro figlio di puttana e contro gli stessi. Comunque io l'ho detto subito dell'arbitro stupido. Sì, è vero. Tu l'hai detto subito nel primo tempo. Vabbè, ma perché nel primo tempo... C'erano state solo un paio di cose, però non così esagerate. Qui dietro ce n'è una. Qua non c'è più nessuno, invece? Ah, ma io sono da solo. Ah, ma non ho nemmeno i colpi. Nice. Ho zero pesanti. Eh, tra poco ho ulto. Ah, ne ho 40 io. Qualcuno ha delle munizioni pesanti? Uh, qua sono la salita in tre. Che si fa? Ma se ne vanno? Balloon. E lì, il balistro. Se non la saremo adesso. Ma sono solo due? Eh, ma ce ne sono altre. Mi stiamo giudicando. Sì, 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 li vedo. 36 flash, 36 flash. Usato. Usato. Sta scema! Camperata all'angolo. Altri. Struzzo col post. C'è su io. Preso. Stavo avanti. Ah, dì. E via! Davanti Preso E via Guarda che sto raccogliendo un botto di roba inutile Quanti cazzo di colpi ho? Che cazzo stai dicendo? E' buona Insomma mangio Ehi ti venga con la ulti di balistic Tanta roba Tecnica da assegnarsi Tecnica da assegnarsi e utilizzare Au Ah ma già l'ho preso Ah ce l'ho dorato ce l'ho GG Della combo carbina wing Ci sta però da Stagione scorsa Sonia hanno nerfato Gli assalto da vicino Quindi carabina wing Nei fight ravvicinati Se è un po' Se è un po' così Sarebbe meglio con un smg Raga io ho pocket loss da dopo questo fight Anch'io Anch'io Ah perfetto Dossati Anche io Anche io Meglio R99 Sì R99 al posto di qualsiasi delle due Sia carabina 99 Sia winman 99 Inizio contro la rovescia L'anello E vi 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 Andiamo da questi a sinistra o No aspetta Sì 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 Eh sono a deposito elettrico Ok Si gode Si gode Si gode Posso dire una cosa onestissima Eh sì Eh non ho voglia di don't starve Eh ci sta Allora famo Apex Tanto è mezzanotte Più che altro se non c'è bradi Vabbè comunque saremmo in tre Però easy don't starve Facciamolo quando ci sono bradi e stegge Cioè Più che altro l'abbiamo Rivo lo vedi? No One hit Eh purtroppo Non è girato Un altro one hit Un altro one hit là davanti Anche lui Grazie raga Pronto L'unico stronzo che non se ne prende nessuno Di one hit so io Onesto Minchia Io che due ne ho lasciati one hit Me ne prendo zero Ah sono rossi questi Eh ho fatto Un po' l'horizon Fallo horizon Fallo orico Lauri E' qua qua dietro l'hote Mi conferma Mi conferma Mi conferma Cazzo Eh da one Mi conferma Grandissimo 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 Vale del tappo Sempre veloce Eh Eh dico ricarichi veloce Sì sì ricarichi veloce I colpi infiniti Questo sto aspettando ancora E via Immagina Immagina Spararmi di Nemesis Mentre che faccio la tecnica Del t-bag infinito Ma fatti una vita Ho le mie motivazioni Per ti begare quella persona Lasciami in pace Non metterti in mezzo Se non sai cosa c'è dietro Ci stanno avvicinando Eh Non ho da lutare No non puoi assolutamente Queste cazze qua Però sono in open Eh difficile Tira gli ulti Uno è viola Uno è blu Uno è viola Non ce l'hai la ulti? No Ce l'ho quella 50 E' la pena usata L'ho avvicinando Godo ribo Godo Si è troppato? Vado Io vado da quello Che sta ressando Ribo Guarda che potevo Ma non l'ho fatto Che cosa? Farlo ressare Potevo Ma non l'ho fatto Prego 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 tranquillo Faccio il medico Giustamente 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 Mi deve fare i 5 Con la granata Un HP quello lì Quale è blu? Hai la ulti lì? No non ce l'ho Ah non ce l'ho Uno brucia blu E via Madonna Quante cazzo ne abbiamo fatte Di kill Un botto? 5 Eh vabbè Minchia Tipo 24 di squad Mi sa 24 No 10 ne fate 10 10 10 Mi sa ho 24 25 di squad Porco cazzo Eh pensa Se non avessimo perso Due ore con la tecnica Del t-bag Infinito ogni volta Zio cazzo Eh sì Eh fortuna al padrotto Non riesco a Cioè io ho 9 kill 10 assist Minchia Eh un fire Ribbo stasera Eh sì sì Io sono un fire di assist Cioè tipo Sto colpendo tutti sempre Ho fatto 9 assist Prima 10 ora Cioè io sparo sempre a tutti Sparo sempre a tutti Quelli che uccido Quelli che ucciderivo Io sparo a tutti Zio cazzo Ma c'hai la skin di base No Non è di base Piccolo 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 Eh c'è quella del battle pass Eh sì Ma l'una di caccia Invece è quella Dell'evento Ah è me Dio caro È quella rossa È E sarebbe Quello dell'evento Ciao Icar Sarebbe il gufo Ma rosso Ma è originario Quello rosso A me non piace Piace di più Quello originale Quello rosso E c'hai anche quello normale Ma estra meglio Quello normale Figa di quello rosso Anche più raro No aspetta C'è solo quello rosso Scusate Ah Minchia Minchia Questo caccia Vabbè C'ho già i badge delle armi Che vuol dire Che arma ha livellato Ma perché forse Eh ma perché non li Eh i badge li sblocchi prima Non è che li sblocchi al 100 Ma 36 è tantissimo Ma cosa 36 è molto 36 è molto Sì 37 è tanto Di livello del Livello dell'arma Di che arma era Di che arma era Io facerò quella No raga 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 La non è l'endabile Vado da Vado da stacker No anche da me non è l'endabile Hai un'arma ste Eh lui c'è l'ha 99 Io ci ho volato qui Quanto gli hai fatto? Quanto? 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 Eeeh Lì c'è? 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 Mi sto arrivando completamente Nico Eh? Mi sto arrivando completamente Mi sto arrivando completamente Sero? Non ho armi Eh neanche io Sono 27 persone C'è io ho preso il 99 del tipo Ma ha sprecato tutti i colpi su stacker Ce n'è a zero Cerco di guardare te io Eh vieni vieni qua Vieni qua Vieni qua Sono sotto Vieni verso di me Io aspetto stacker Qua Non ci sono più eh Figa C'ho due colpi leggeri È incredibile che io mi sia fermato Ti salvi solo perché mi chiedi Hai svuppato tu? No Mi si Ah no forse sì 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 ho svuppato E anche perché io non ho Non le ho fatto C'è una Spitfire qua Non so se Arrivano forse da noi È viola L'ho craccato 33 viola E io 57 49 tipo Era craccato Era tipo 60 di vita Ha uno di vita Ha stimato Sì 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 ero anche qua Ho jumpa per andare top Top è uno solo Vado Dentro da me ce n'è uno Spendi Ma cazzo stanno gli altri? P***e Forse qualcuno da fuori Volevo volevo Grazie Brody Grazie Brody Arriva gente? Sì Ma? Godo 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 Caricatore leggero Che bellino Oro Che culo Eh Passare da Da zero a oro Zero a oro infatti Minchia Ma sai che il 30-30 Lo si tiene tutta la partita Cosa grave Che ho ancora una Spitfire E anche io Io 99-30-30 Ma il 30-30 Sta performando Vabbè As always As 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 Esul Esul Ma L'ho detto Octane non mi fa l'ispezione Cioè non posso neanche fare l'ispezione mia normale da covacciato Che schifo Madonna Che puzzolenta L'Hirloom non lo puoi proprio ispezionare da covacciato Ho jump Io vado on top Minchia ragazzi è pieno e pieno qua davanti è pieno due horizon Presa 48 Io pusho lei perché ho preso il knock Ovviamente BFO Cazzo il 0 leggere Ma non ci credo Ho un energy oro se vi serve Io ho bisogno di leggere urgente Ne ho 0 130 Eh Rivo Passa a dire un paio Eh Rivo Me ne mogli un paio per favore Ma Steggec quanto è forte il 30-30 Quanto è forte il 30-30 Steggec Porco cazzo Vi serve il Però secondo me Tieni 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 Vi do anche questo se vi serve Io sto giocando il 30-30 con l'all 1 per Ti giuro è troppo forte Forse Oh è uno Tieni 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 Sale Vi be E vi ho 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 52 viola Ma Ma 79 flash Ah ma tu sei andato fino alla Sì sì Io con l'uno per un po' difficile vedere Ma ci provo I try I try my best Ne ho 121 Leggeri te ne posso mollare io Quando ce l'ho spitti E via 60 No no 60 no Era per pingare il 69 Hai bisogno ancora di leggere Seba Io non ho 181 ora Vabbè io non ho 118 ma tanto c'ho la Spitfire 118 Che cazzo vuol dire Cioè la Spitfire ne consuma Non è che Cioè va bene hai un po' in più nel Nel coso però Vabbè per dire che non la usa come primaria Ah Ho lasciato il 99 io Stica Io ho 99 Minchia la Spitfire Dio che ha 33 Io 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 ma sto Sto aprendo quel 33 Ma è troppo Ma adesso lo mollo per l'EMlock Quindi easy È troppo forte il 30-30 Poi ne ho uno anch'io Ah sì mi vado a prendere l'EMlock Eh sì Lascio il 30-30 Che ho il 30-30 È la lifeline È la lifeline È la lifeline È la lifeline Lascio il 30-30 se ti serve Stiamo con l'EMlock Uno è pred Ultima season Ah È la lifeline Dio che ha Rocket Paul No porca troia Ha lasciato un medikit L'hanno presa L'hanno presa L'hanno presa Arriva da noi Mico Solo uno arriva da noi No 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 Nessuno Nessuno Ma dietro 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 Ma dietro qua sopra Ho capito Scende qua in open La tecnica ribo Da me raga da me Arriviamo Arriviamo anche l'altro Ma perché è rimasto qui Dov'è Arriva Arriva da qui Arriva da qui Ha preso Un giga cazzo secco Mi serve aiuto Tranquillo Il campione era morto Cite Davidotti Adesso è morto La tripla di Nico Voglio tirare su qua La tripla di Nico Sul campione Un cazzotto L'hanno responato Valordo Ah Eh l'hanno responato E la tripla di Nico Sui campioni E via Ah Eh certo Interparti con Ratio Si sono messi a salutare i nostri Insomma Raga raga Attaccato 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 Arrivo È attaccato È qua Non avrò pietà di te Avevo mollato le cose No basta Radius Raga basta Radius Non ce la faccio più Dio santo L'abbiamo nominato prima Oh l'abbiamo nominato prima Oddio Io mi devo rifullare In altra venga Concordo 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 Arrivo Io avrei jumpad Per Ne ho 100 io Ma dove stanno questi Preciso Ora Eh un altro team Era lì Eh quelli lo so Che sono gli ultimi Che mi hanno sparato Ah Cazzo sto finendo i colpi Di emlock E godo davidotti Raga Niente da dire Si gode Ma qua sotto eh Stanno in due Sì sì Una è sotto L'altra è qua dentro Ma qua dì Io vado da questo Raga aiuto No 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 Vuoi che ti bestemmi Tutto Tutto il calendario Chi era questo Chi era di voi Bastardi Io L'ho detto Vuoi che ti bestemmi Tutto il calendario Stagaccia Stavi facendo la challenge Facciamo bestemmiare Niko Eh ma hai chiuso la porta Stavo per morirci Mi sparava l'altro Mi son beccato Te che arrivavi Dall'altra porta Madonna Ma va Ti sta sparando Sì 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 C'è il corvo C'è il corvo Eh usalo usalo Ma buttagli una tattica addosso Non c'era Non c'era Nei 70 Eh ne ho Nei 70 Godo Get rekt Godo 71 Io ne ho 71 Luta la lifeline Non l'ho lutata volendo Ma mi sa che lei ne aveva No secondo me sì È che io non l'ho lutata proprio Eh io sto finendo l'emlock E ho 70 leggera Quindi urge questo third party Per prendere munizioni Perché sto messo veramente male Ne hanno confermato uno No hanno finito anzi No non è vero Dio santo Male male di emlock però Cosa? La speed fire Male male di emlock Figa non ho preso un hit Dio caro Torni indietro Torni indietro sì Forse puoi ora Forse puoi ora Vai subito L'ho detto male male di emlock Dio santo E adesso risalgo al volo Dio santo che schifo Ho fatto una sega di emlock Immaginati essere scopato dalla speed fire Ma dov'è andato questo? Radius ancora? Sigo Ci sono leggeri Ne ho zero ancora io Ma raga è blu uno Trovate le leggeri Se vi servono qua è pieno Ma quella è la life lane e revenant Sono due o è un altro team? No 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 È un altro team Sono andati qua a sinistra Mi sa vero? È lì la cassa Lo vedi Ho fatto niente Ho iniziato che scopavo Pio santo Ho iniziato che scopavo Sta partita La sto finendo di merda La sto finendo Io ho 10 assist Ma no Io l'ho iniziato Da che scopavo Porco cazzo Era meglio tenere il 30-30 Serio Col 30-30 Ho iniziato scopando Sta partita La sto finendo in modo In modo imbarazzante Carico gli scopi Sì sì Sono stato punito Per aver mollato il 30-30 Palesemente 30 secondi fa Palesemente punito Per aver mollato il 30-30 Da quando l'ho mollato Non mi entra manco Un hit di 99 Non riesco proprio a sparare Non dovevo farlo Ma gliel'ho detto Pixel Gliel'ho detto Gliel'ho detto a Segac Che se scanna i corvi Con l'L1 Gli dà l'L1 indietro Infatti quando vedi un corvo Spammagli subito l'L1 Sono meno Figa ti stai medesimando Nel personaggio Sono meno fresche le tracce qua Mamma mia In effetti c'è una anch'io No no Ci hanno piazzato una torre Raga Chi è stato Oddio Ma dove era Ma figa risponasse la Bangalore Immagina non trovare I nemici Avendo due ricognitori In squadra Di qua non loote Godo 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 Ho l'EMLO scarico Godo Madonna Oggi ho trovato L'Helstar prima Adesso l'EMLO Krabber Cosa mi manca Che arma c'è poi Elstar Hemlock Krabber Qual è l'altra arma Di Da 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 Esatto Quello che volevo dire Anch'io Sì ma C'è un ratto Ah l'arco È vero L'arco L'arco È vero È vero Ma tanto di Krabber Palesemente non sparerò Neanche un hit Ma l'avevo sentito Subito l'inizio Immaginavo L'altro ha quitato Va dai Un ratto È uno che quit Un ratto È uno che quit Un ratto È uno che quit Chitta Ma Dio Santo Questo qua Ha piattato La La Pensavo la prendesse Comunque Stekic Bloody Fa proprio per te Perché ti puoi prendere Gli assist gratis Con l'E1 E così a fine partita Ti puoi lamentare Ah no è vero Ah Madonna Uela Io le cuffie Le collego Alla console Diciamo 10 assist Stekic Mamma mia Eh 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 GG Assisti Onesto Onesto Eh ma adesso Dicono che invece Devono fare Revenant Reborn Che ha abilità diverse Ma la ulti è devastante Infatti l'ha detto Anche i mortalieri La ulti dovrebbe essere Tipo Fatti è l'uno contro uno Vabbè è figo Vi isola dal fight Diciamo Cioè Tipo tu colpisci il nemico Lo isoli E fight in uno di uno Contro lui La passiva in teoria Diventa tipo Wall run Ma già se gli mettono Wall run Diventa una figata Di leggenda Dai Uno ha le casse fuori Uno è dan Uno è le casse fuori Non ho armi Non ho armi Non ho armi C'è il Nemesis qua Dove vende la cazzotti Che ce l'ha Prego Ma stanno tutti Tra la casa ora Aiutano Io mi sono messo sopra Dio Alla finestra Una alla finestra La fermo E via Buone qua dietro Qua dietro Non so Ma non Ma qualche Cioè Ce li avevo in mira Non so perché Non l'ho colpito mai Non ho capito infatti Ma perché Dalla mod spettatori Sembrava l'avessi smirato tanto A me sembrava fosse Abbastanza in mira Ah Boh Codiaz che falle Porco Codiaz che Eh la tripla di Zantro Codiaz Sto coglione qua Che non si sposta Dio santo Che falle Ma tutto ci sta Quando muoio Perché proviene Ma tutto ci sta Eh Ecco la casa grande Dietro Ma con te arrivano Da noi Ma certo Che arrivano da noi Io son morto Arrivo alla casa Con te Lo so Uno arriva da sotto No tutti so Ma sotto ce n'hai quanti Tutto all'occhio Diga io per lanciare sta merda di L1 Sto prendendo il cazzo Non Sono capace Di spararla Mentre fight Ce l'hai Ce l'hai Ce l'hai No 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 Basta Io per provare a lanciare sta cazzo da L1 Mentre fight Mi esplode il cervello Eh con quanti danni Eh GG Ho 200 danni meno Con una kill io Eh prima è toccato a me Ora dobbiamo Eh sì sì Ci sta ma infatti Devo curarmi Ma va bene così Non mi lamenti Che falle regalo Dopo voglio clippare Per vedere quanti FPS Ho fatto a insta fight 20 Oh perché stralaggavo Di FPS E via Allezzura Eeeh Il FPS cala Che devo dire io Che c'ho PS4 Ma infatti parlo Da PS4 Godo 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 Compratevi la PS5 Madonna Se in un bar Devi sederti Ci sono dei tavoli con le sedie E dei tavoli con gli sgabelli Dove scegli di sederti Eeeh Sgabelli No dipende cosa devo prendere Sono dei tavoli con le sedie Che cazzo vuol dire È dei tavoli con gli sgabelli Eh ok scusa Cioè dipende cosa devo prendere Se devo prendere qualcosa di veloce Tipo se devo prendere un caffè Con gli sgabelli Se devo prendere Che cazzo ne so Un aperitivo Allora le sedie Un aperitivo adesso Eh Allora sedie L'aperitivo è una merda Lo sgabello Non stai chill comodo Eh appunto Ho capito Ma con lo sgabello Sei più aerodinamico Sei più libero Di girarti Cioè se devi bere Un caffè veloce Ci sta Sopel Sto facendo tipo Qualche quiz Su qualche Sito Eh può essere Dimmi la personalità Cioè Vai vai fammi le altre domande Per scoprire la personalità Cioè nessuno la vero Spero Io nel dubbio Sono andato per destra Ica 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 Ciao Idan Oh no Prizzi in game Esatto Idan 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 Ehm Come chi è Idan Figa E' l'interista Con cui flammi sempre Nel gruppo Prizzi Fabio Fabio Idan Sì 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 Chi è Idan E' l'interista Con cui ti flammi sempre Nel gruppo Telegram Quindi Stasera Pronostico Stasera Io ho detto 0-0 Ho massimo 1-1 Però io Tifo Vila Io sono indeciso Se packarti E andare a vedere Allo stadio E ci sta Allo stadio Ho regalato il biglietto Vabbè ma tu stai scherzando Grande wow Infatti io ora vi faccio 900 km solo per andarmi a vedere la partita Parto adesso in jet Vabbè in jet puoi partire anche tra un po' Quello appena E si ed era pure fk 2 a sinistra Penso sia un altro team Perché sono appena atterrato Ho lasciato un casco oro Grazie Libra Grazie per la sua regalata Qualcuno con un 99 Godo Triple take di merda Oh Quanto mi sto E chi è sta roba Aspetta Io nel dubbio insulto il triple take sempre Frega un cazzo Eh buono Cioè curati dio bonti Ho croccato Un altro con l'ombo Eh apposta Non è vero Basta rubarle tuuute Figa Basta rubarle tuuute Rubarle tuuute Se pazzioca Tutte Io sto volando col balun Fuori di safe Avete il target Due meglio di uno Avevo voglia Arrivo Non vorrei dire Non vorrei dire Non vorrei dire Ma All hitcrabber challenge Bella Sono a 3 su 3 Per ora Eh Facile 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 Arrivo Uno a 2 Uno a viola Uno a blu Mi hanno sparato Bella Sto ricaricando i miei scudi Non ho siringa It's Mica so stronzo Che mi faccio il medikit Per 20 di vita Figa ma io non ho battery Per ora Per ora si Ma Prizzi 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 A destra A destra mia E qua 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 Li visti Ok Sono due Forse sono i teammate Di rate No Sono già morto Sono morto Sono morto Sto ricaricando No Ho cato uno Da me raga Ok Ah l'uccisione Ti allunga la ulti Che figata Ti aumenta l'ulti Si si Ti 5 secondi Per ogni uccisione Porco cazzo Vabbè ma ho roccio Riga ma Ti va sopra la nostra E sta vicino Eh Attacca da qui Ah ed era Letta Distrutto Mira Vado qua sotto Sì ma vado qua sotto Dal patio Ma perché non viene questo Perché non viene più in qua Questo Perché non viene più in qua Questo brother E gli assist E gli assist Sta arrivando E un mirage anche lui Come un mirage anche lui Prego seba Quanto 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 No ho trollata La will it Crabber challenge Mi puscia raga Mi puscia E' craccato Quanto godo Quanto godo Coglionazzo Io direi top 3 Delle cose che mi stanno Più sul cazzo Su questo gioco La gente che puscia Da one shot Barra craccata Beh Andy Nesox Sei la prima Beh balistic Sì Ma che cazzo Pusci Sono qua davanti a me Che cazzo Pusci Oddio davanti Davanti quanto Davanti Hanno messo market anche Hanno messo market E respawnato Ma non vedo la Ah eccola Ma il market è sotto Tipo è alla casetta Qua sotto E' sopra Ma no E' sopra che ha preso il loot Dalla Viola il mio Ma ho lì No 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 L'ho missata prima Infatti ora sto andando chill Non ho missata un'altra No no Ne avevo missata una Per ora sono a due miss Però questo va bene E' impossibile da prendere Dai Questa era impossibile Questa era veramente impossibile Mi stanno sparando Fatto il filiche Fatto il filiche Solo di quel nemico E' un bato Buoni balistici Buona C'è un bato C'è un bato Raga è incredibile Io non boh Io boh Un passo in più Verso la vittoria E' veramente incredibile Ho eliminato tre nemici Ho eliminato un nemico Un male necessario E' incredibile No 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 E' incredibile E' incredibile No è incredibile Sta partita Sta partita vale per tutte quelle Che ho rubato in vita mia Ti giuro eh Sta partita vale per tutte quelle Che ho rubato in vita mia Stia ho fatto 44 Fresh alla roba Si rafforma per 10 Sta partita vale per tutte Quelle che ho rubato in vita mia Proprio per tutte Tutte Te ne ho lasciati one shot 7 Vero no Vai a fanculo Avevo 14 kill Non te ne ho lasciati one shot 7 Stai trollando Stai Vuoi che li conto Figa Ma perché Praticamente avevo 16 kill Loro 7 e 6 Poi hanno iniziato a piangere Perché li ho carriati Però vabbè Alla prima partita Dopo un mese Che non giocavo Con un pad aggiustato Però vabbè dai Mary Se li hai già ordinati Che cazzo chiedi Che colori ci piacciono Ormai li hai ordinati Questo è il tuo campione Oh oh Eh vabbè ma Ve li divide Per il colore che vi piace Cioè Anche a te scimmia Ma il terzo è per te No il terzo È per la mamma di Kai No lei ciuccia altro Non è il mio ciuccio Ma nel mentre Ciuccio Amo questa parte Ciuccio Da quanto gioco? 20 minuti Capito? No non sono arrabbiato Pelata con gli scemi Non mi arrabbi Va Cascate mi fa Cagare Mi fa Sì peccato che questo Non sia cascate Ah che cag Eh grande Non ho armi Eh infatti ho visto Che stavi andando a destra Ho detto Prima gli rubo da lui Mi vado a fredare Grande grande Sì 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 Adesso Adesso Vediamo cosa convenerete Voi due che avete le armi Vediamo se con le armi Quando io non le ho Pillate Eh Questo è solo un'arma Immagina flammare L'ari 45 allo start Ribo vuoi pushare sopra Benico Si è svuopato Ha solo scudo Tranquillo Come si è svuopato Perchè moluzioni Questo qua c'ha la pk e maastiff Dio caro Se hai fortuna Dio caro! Mamma mia, la clip! IL CAZZONE DI RIBO! C'è sto coglione che sta ruotando dal mare! IL RIBO CAZZO! Comunque li abbiamo da ovunque, anche da pieni! Io sto solo un 30-30! 30-30, zioca! 30-30! 30-30, zioca! Va bene, pusciamo re dei tonni! Vai! Mali da Nigilio è splittato! È a destra, alla casa destra! Andiamo? Andiamo da re dei tonni! Vai! È un altro full team! Easy, easy, easy! Abbiamo lay ground! No credi tonni! C'è il compagno di vicino però! Caricamento di vicino! Dai! No! Ma anche lui, hello! Qua all'angolino, non le bagno, non le bagno! La tripla di Nico! Che bello! Ma raga! Perché non siete ancora scesi dalla carriola? Ma vuoi che riscrivo d'arta? Ma dai! Cioè! Figa! Si consumano le ruote se continuate! Poi in due siete pesanti! Poi in due siete pesanti! Poi in due siete pesanti! Cioè! Mamma mia! Io potrei salire dalla zipline! Però prendo il cazzo! Non so che non ce n'è in su, Anthony! Dici? Ce n'era uno in diritto! Si è droppato, si è droppato! Ah, ok! Siamo arrivati a me! Vediamo! Verifichiamo! Siamo arrivati a me! Ci ho fatto uno! Easy per il ribo! Riparte viola! Si conferma! Godo! Godo! Qua davanti sopra! Ok! Zero! Ma! Madonna sto cazzo di 30-30! Scopato il pat! Traccato l'altro! Quasi, 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 quasi! 120! La tripla di ribo? La tripla di ribo! Va bene, va bene! Grande! Io vi ho restati entrambi senza fare scenate! Grande! Io vi ho restati entrambi subito senza fare scenate! Immagina! 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 Grandi, raga! Grandi, 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 grandi! Vi ho appena restati entrambi senza fare scenate io! Entrambi restati senza fare scenate! Però si bocca! Io invece vi ho fatto scenate! Entrambi restati senza fare scenate! Siete veramente clown... C'è fatto nulla? Siete veramente dei clown! Siete... veramente dei clown! Eh, mi craftò l'alternator Mi son rotto il cazzo di avere l'air 45 Cioè, sto craftando l'alternator C'era un 99 Ma dove? Ma non me l'hai pingata Ma preferisco l'alternator Cioè, tranquillo È l'arma delle 25 bombe Esatto, è l'arma delle 25 bombe Sì, 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 sì In che metterci in quella partita Ti fosse tenuto il... Ma aspetta, aspetta, Kai Questa ti deve piacere Ieri, dopo la live Siamo rimasti un attimo in party Io, Seba, Arta e Stekic E Stekic, tipo, ha una... No, io... Eribo, scusa, non Arta Io, Seba, Ribo e Stekic E Stekic ha una certa fa Cioè, così a random, mi fa Ma scusa, Nico, ma tu non hai ancora fatto Le 20 bombe su balistica E infatti io gli faccio Grande, non hai ancora fatto Ho 300 kill su balistica Tu ne hai 18.000 su horizon E non hai le 20 bombe Nico, non hai ancora fatto Le 20 su balistica Figa, ho 300 kill Lui ne ha 18.000 su horizon Immagina Immagina Ma non hai ancora fatto Le 20 bombe su balistica Dio caro Stekic Ti devi... Ti devo coprire di vergogna Davanti a tutti per ciò che hai detto 18.000 kill su horizon E non li hai E parli E fai i commentini E fai i commentini Mamma mia Che palle Passiamo per destra O per sinistra Allora, ribo, ribo, ribo Continua, continua No, continua Al mio stop Fermati Allora, chiudo gli occhi Stop Quindi per di qua Per di qua Perché sei rifiuggerato Verso di qua No, non è vero Dai Ah no, dai Ci sta Ci sta Ci sta Dai Eh no, dai Dobbiamo Cioè Ma sì Tanto sono qua Lì, sì, sì Lascio un caricatore Leggero blu E pesante viola Minchia Ho riraccolto le Hellstar Perché hai lasciato due caricatori? Perché quello pesante Ce l'avevo senza motivo Il record di danni di stackage con me Allora, con me non ha mai fatto i 3k Di sicuro Il record con me avrà fatto il 2005 Tipo Il 2005 non sono sicuro li abbia fatti In verità E via E via C'era la torre di coavazione Però non la prenderò Non la prendo Ci daranno il cazzo Ma va Ma noi diamo il cazzo a loro Ma qua raga, qua Qua, sopra di me Oserei dire che mi scenderà addosso forse E qua? Gli vado dietro Ma è uno solo raga E' da sola E' mirage E' mirage Era da solo E' mirage Porco cazzo Tutto dorato Tutto dorato Flaklane dorato Volt dorato Aveva il casco dorato Lo zaino dorato E l'ausiliario dorato Minchia Aveva Sì sì Tre cose dorate E due armi dorate Porco cazzo Dove minchia ludato al brother Vabbè questo sarà un ring player Di sicuro Avrà ludato al ring Immagina Tipico Tipico ring player Dio caro Mamma mia Zioca 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 Minchia raga Che male le spalle Sette kill Novecento danni Grande Eh Grazie Lo so Lo so Lo so Sì 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 Air King Ma infatti Ma a parte La cosa incredibile È che il ring Abbia trovato due armi dorate Cioè Sti cazzi del casco E dello zaino Che ci sta Lo zaino esce quasi sempre Il casco è onesto Che sia uscito Davanti a me Traccato il mirage One shot l'altro Il terzo mai colpito invece Ma era Dai Dai avanti E gli altri avevano respawnato Gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag sa a che male ribo mi sanno fatto il respon grande stacca che ci simulato ma voglia spero di non incontrarlo mi sembra fortissimo no ragazzi c'è lui abbiamo perso che palle da era anche una partita carina no no spero dai speriamo che sia già morto sono loro sono qua hanno messo la torre di evacuazione raga speriamo che sia già morto perché se incontriamo quello non la vinciamo mai ma questi sono tutti particolari jumpano crabberano al volo e mi crabberano soprattutto bello ma perché non lei perché non lei ruota arrivo ma veramente le barriere hanno messo le barriere anche dietro raga anche dietro anche dietro si anche raga noc 1 noc 2 avete l'ultimo no 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 arrivo arrivo fullati no no è anche ribo anche ribo anche ribo posso arrivare da te è andato via sei andato via sei andato via puoi restarmi allora puoi restarmi al volo faccio solamente una batteria però li resta perché come li resta scusa adesso io ho il dorato hanno il tp dove sei preciso è sotto dio vai vai copri copri due secondi adesso cazzo 2 noc che palle dio ma dove lei dove andava il tp preciso sotto di noi proprio ma no la casetta ah sono qua sono qua sto iniziando la gara quasi crack prima ma gli altri due sono rimasti indietro sono due lì sono due lì e una sinistra con la sinistra no erano due a sinistra ora crossano qua forse non siamo soli dietro dietro quale quella piccola quella grande bello vedo la ascia appena non piccare non piccate non piccate non piccare io posso mettermi dalla si piccola appena sparisce la roba la 0 da 104 caustic ce ne sono due in questo angolo appena sparisce la barriera del ma una destra invece tra con una bagno a destra io caro quello al bagno madonna santa vergogna vergognati easy per il boss easy per il boss madonna ho fatto una corposa hit da otto di p skipper al new castle l'ho veramente spaventato mamma mia a me in p skipper io l'ho detto ah cazzo madonna oggi ho un male alle spalle alla schiena non so devo devo cercare sarà l'età che avanza sarà l'età che avanza un mal di schiena alle spalle raga mamma mia mamma mia molto bello l'apri 5 non c'è ma c'è il legge c'è legge mille volte meglio col cazzo io col mio mi trovo bene ma io col mio mi trovo bene ok riordinati dorsali oddio che mi compri un paese unico figate lo regalamelo 240 euro di pad regalamelo zio porta se me lo regalate legge va bene lo gioco se no con il con il cazzone proprio che merda sta scia comunque io la tolgo ma anche se fossi via non la metterei eh? ma che me fa cagare? fa cagare al cazzo sta scia c'era con la della season 8 era che spucco ah è vero figa riciclotissima ma ci manca solo che carichi si ma te ne arriva uno non so perché ero convinto di avere un triple take il mio ha quittato uno gli ho fatto 48 e 48 l'ho craccato è risalita il sesso con la loba eh sniper mi servono ma voi no io boh cosa? io non ho preso un cazzo amo sniper nico oh io ho spammato ho preso tutto eh greve è così eh porco diaz raga e via e via e via Ce n'è qualcuno anche da destra male 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 ma cazzo male 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 ma cosa cagato 90 Già sport si gioca Oddio non ne dia fami non ne dia penso sia un bug perché anche ad altri anche altri prima hanno scritto che gli hanno messi grozo 4 nel piazzamento credo sia buggato Io devo ancora ammettere fare il piazzamento Ho 0 medikit 0 siringhe complimenti a chi si è inculato madonna io ti giuro Non ho manco lottato di su da voi ma no e ste che ci me li so fatti entrambi i full 200 Ho lottato soltanto i colpi Ti fai 2 kill full 200 e ovviamente Hai lottato tutto da qua invece Vabbè madonna fa un cazzo E' one lane Guardo due che falle ragazzi però Falle 10 E' one shot seba uno di vita Ok sta restando l'altro l'hai sentito Che sfiga marcia Minchia che sfiga marcia Di qua va nel tunnel Che non è un tunnel Non riesce a salire non riesce a salire E' stupido è stupido Ma scusa quanto aveva l'horizon minchia che falle E' una quarantina No come quarantina no è impossibile 30 quattro Vedo tipo 3 hit di car Ma? Altra g ma? No ce la facevi seba Non potevo non potevo mai nella vita Dai questi mi confermano poi Non ci sono? One o quello a destra Locking Ovviamente Quello da te arriva C'è una tua team E' riuscita a recuperare subito? Ma è sopra di noi o? 183 vi ora E' salito qua da me E' salito qua da me vero? No Ma dai Fate un altro third party dai Via Minchia o L'hanno fatto davvero L'hanno fatto davvero Da dove? Da dove? Da dietro di me Eh respawno No si si Ma ho fatto sentito male Non penso Panno 18 kg voi avete Che fall ragazzi C'ho 0 kg Io sto facendo schifo 0? 0 kg 400 di danno raga Aspetta aspetta Qual'era il tasto per sparare? R2 Ma che cazzo c'entra R2 Sono stato tre volte Noccato Due volte respawnato Immagino Capito Colpa tua Eeeh Godo accelerante Ultimate Sbobbo Che bello Non te li ridaranno Pami Perché Ma si Dello Mi sa Perché scusa Anche Edo Fabricup Ha fatto il piazzamento L'ha messo a bronzo 4 Cioè Ma sai anche Sono proprio un flop Cioè Scusa Fabricup Bronzo 4 Manco perdendo Tutte le 4 di piazzamento Cioè Tutte le 4 Tutte le 10 Cioè Poi non so come abbia fatto Nelle 10 di piazzamento Però è strano Io ho due calcibiamo Mi serve un calcio standard Bella Storca Mica avevamo fatto Il tour party Seva Avevamo detto Che non era Era un prank Stagacch Era un prank Prank matano Lo so Black Mamba Lo so Infatti ieri usavo Rampage O la devotion Che è tanta roba Perché Con il turbo compressore Ma io sto fanno La re La re Ma non mi C'è più che altro Perché Se ingaggi il fight Per primo Comunque Con Con l'hammer Non mi fa Impazzire Ma io uso la re Perché non trovo Il devotion Eh Il devotion Figa Non l'ho trovato una volta Ma non lo trovo mai Trovata una volta Stasera Sono le misure Mia Non so dove Guardo di là E sono le misure Ah lì Mi sa proprio lì Eh la famosa casa In cui Ribbo Mi ha trollato i 6k Aspetta Grande La famosa casa Dell'esecution Quella eh Eh sì eh Tu veni Conviva 1800 danni Sono da me Sono da me Sono morto Però La tecnica di Niko Dai che fa La tecnica Niko Oh 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 No no Non a me Non a me Non a me Eh io l'ho fatta Io l'ho fatta su Stekic Perché si bella fatta a me Zuka Cazzo vuoi Ha funzionato per una volta Ma io godo solamente Perché Stekic sta a 0 kill Non mi frega niente Di tutto il resto Ma quanto mi hai fatto Quella Quella rampart Vabbè io l'ho fatto 40 Dai non piangere Ste Dai non piangere Dai Dai non piangere Dai la prossima andrà meglio Non piangere Non piangere Ste Ah 22 kill in 3 Anche lui una morte 22 kill in 2 22 kill in 3 22 kill in 2 No no una morte Una morte Mamma mia Ciao Edo Ciao Edo E poi alle 23 Easy Mi sposto qua Codo In tempo per Domani alle 19 Franco Per la palestra Ora non ho sentito Alle 21 Alle 21 Sono per 2 ore Nel canale di GameStop Sì Alle 23 Attacco live qua Per un paio di ore Bella liscia Bella liscia Se va Ti chiedo scusa Ti immagini Stavano guardando Grint la GameStop Stekic quanto fai Di panca piana Oh dio Eh 60 Che sega Io faccio 95 Che cazzo dice È impossibile Non è vero Perché no Che cazzo vuoi Perché non è possibile Sei troppo No figa Cos'è Cioè se tu sei il più forte del mondo Più di 60 Non si può fare No 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 Lo dico Lo dico No vabbè Ma che cazzo di merda è Quale cazzo Io ho due Sì perché sotto Troverai un botto di roba Ah di là Trovo un'arma La trovo Figa Ne ho due io di armi Eh mi fa piacere Guarda quante ne ho io Io ho la viola Nemesis E 99 Raga 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 Fate full con Eh Non lo so Non lo so Se no mi levo dalle palpe C'è nel senso Dai come ho fatto due win Non lo so Mamma mia lo stackerci Ma io vuoi lasciare il posto a Seba No Non vuole Cioè scusa se glielo chiede Stagaccio vuoi lasciare Nico vuoi lasciare il posto a Seba Va bene ragazzi Va bene va bene Vabbè mi muto nel parco Andate in full Va bene stagaccio Ma torniamo indietro Torniamo indietro Torniamo Vabbè no voi Lutate Il mio numero ce l'avete Salto Mamma mia Comunque godo che ho ripreso l'account Twitch Comunque sono un coglione Ma il bello che te l'ho pure detto il primo giorno Ma c'è Xeno raga C'è Xeno Ma che cazzo è Xeno Xeno è un cibo stream sniper Ma ha snapato 87 volte L'abbiamo ucciso 3 volte l'altra sera tipo Ho lasciato uno di vita All'hanno ottene All'hanno ottene A raidian ante niente Vieni qua vieni qua Vieni qua che siete Non hanno abbassato No Zero zero Né buff né nerf nulla Cazzo sto spiegando Dio E' grande Grazie per la conferma Molto gentile Stagac Eh non si sa mai Ma dove cazzo stanno Davanti a me Davanti a me Eh Qua l'hai visto Andiamo da questi qua davanti Che non è sul team Fightano qua davanti a me Fatto un team E noccato uno dell'altro Ovviamente quitta Ovviamente quitta Al master stagioni 12 Se no non sarebbe master stagioni 12 Se non quitta E via Grazie mille Celestia Ho bisogno di questa Grazie per le sabre calate Ovviamente quitta Il masterino stagioni 12 Grazie Raga che dire Grazie Erco Grazie per la risabba Rispondi pure Che dire Stai che c'ha Che dire Arriva un full team Arriva un full team Arriva un full team Arriva un full team Mi serve un caricatore Energy Minchia non zero Ma no di che No di che No di che Cazzo raga Non ho colpi Energy Ne avrei noccati Almeno uno Staggage full Ti siamo 2v2 Crack la Bangalore Davanti a te Ma girati Staggage figa Ma perché non ti sei girato Io stavo fightando il pat Sì ma avevi la Bangalore Dietro che ti sparava Ah davvero Sì Ah vabbè C'ero io C'era il tuo angelo custodia Però No Come c'è il mio angelo custodia Eh Molte parti raga Comunque Ricarico Loro ho un voto Chi sei bro Chi sei bro 4k 20 bombe anche la Bangalore Sì sì 4k 20 bombe Deve alla 124 il pathfinder Vai ci sta dai Un momento Mi sto colando Boh un tour party simpatico Zero energy Ah ok perfetto Minchia lo steke C'è che te le pinga subito Però non ho colpi Dimmi Brizzi Dimmi 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 Mi dica Quella Madonna Con sta TDM Dio santo TDM Sinestro c'è anche raga Bellaotti Dedo Davidotti Crazy Prizzi G shadow Cos'era quel rumore? Ma è Insomma Non ho trovato manco un caricatore bianco Diabete Maybe matex E allora controllo Non TDM Se siamo in tanti tanti controllo Possiamo fare A nessuno Io non sto sparando a nessuno Cioè li ho davanti a me che sparano Ah Ups Io sto parlando con Monia Però vabbè Mania di protagonismo Di merda E certo Il re Ma a me sembrava di averli sentiti qua a sinistra Schisem Ah ok ok Gara di velocità Io ho alzato Io gli ho alzato Io gli ho alzato un po' Il microfono Io gli ho alzato Ha detto Eh a Stekh non dispiacerebbe Alza Quante batterie avete? E vabbè Ma Stekh quante batterie hai? E allora tieni che te le regalo Dio santo Cioè te lo chiedevo per regalarti Sì ma si smuta e muore Sì ma si smuta e muore Sono io Gigi Sono io Vota figa Madonna manco riconoscere le voci Cinque anni che giochi con noi Vai Raga notacina L1 L1 Bella La gente sotto da me Davanti a me uno Ma Da fuori anche si Quasi crack Quasi crack Tranquillo Io ho noccato il mirage però Eh sta rispondendo Maddio Ah da dietro Bravi raga Bravo Stekh Nebro Strifa sto cazzo Arrivo arrivo Quella Analizziamo questo banner Dimmi Dimmi Nico Era preda Un'altra volta lei Era Nico E ancora Chi è lei Grazie Celestial Non mi ricordo Ah il tipo Pred Quello che ha missato Tutti i colpi di wingman Eh mi sa che ha missato Tutti i colpi di nuovo Vabbè Prima con 500 di danno Ti ho ucciso Adesso con 700 Insomma Va la lime Questa volta l'ho preso Fuso però Ti avevo lasciato Danno in vita C'era il market Sopra volendo Ma ragazzi Gira da me Eh Stekh Ci abbiamo capito Due secondi Lui si sta fullando Io arrivo Stekh Con calma Aspetta Aspetta Grazie mille Celestial Mamma Ah ah Stekh Hai finito Fatto Fatto due team Fatto due team Beh era one Era one No no ma erano due one Stekh Che uccide Laura Attenzione Ciao Laura Ah vabbè Ah vabbè ho capito Perché l'hai uccisa Vabbè Perché poi mi mando le foto No No perché è livello 22 Ma stava restando in open Ma anche Povera Laura Povera Laura Livello 22 Uccisa da Stekh Che c'è Losangela E' stata stekhacciata Anche troppo presto Ciao Laura Basta Laura C'è un meme morto Meme morto Mica veramente L'ho detto Io l'ho defollowato Da due settimane Ormai Mattia Cerrito È un meme morto Effettivamente Non mi esce neanche più Nei per te È proprio morto Un gossipetto da dire Su Mattia Cerrito No Su Su una persona Che conosce anche te Su Dai 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 No no Ti posso dire Il suo nome come inizia Inizia con la F Vabbè minchia Gigi Stegh Grande Il suo nome inizia con la F Francesco E lo conosco io È certo che lo conosci Ti giuro io non conosco nessun Francesco Cioè il mio fratello Francesco Mio fratello Non conosco altri franceschi Ma se prendissimo il cannone Prendilo se vuoi Ma quanto davanti era Lifeline Quanto davanti era Mi ha salai dato Zitto Zitta Steghack E vado io Sono qua Ma devono arrivare in safe Tanto Entreranno per destra Vanno per destra Uno di vita loba Uno di vita loba Uno proprio C'è credo la Presa loba Loba che ho preso era full red Dai occhio Che schifo il nemesis Hanno un altro team dietro? Wolf girl? God La tripla di Nico La tripla di Nico Lo so lo so lo so Mi fullo No Bug del cavolan Bug del cavolan Steghack Non posso più muo Steghack ho il bug del cavolan Devi venire da me Arrivano tutti e due Vai Nocati due Nocati due Nocati due Bro sono morto Vai sciallo Vai sciallo Siamo 2v1 Steghack Steghack 16 La tripla di Nico La tripla di Nico Meritata 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 Steghack Vai sui sui Non scendi Doppia tripla Eh via Bug del cavolan Ma guarda che il bug del cavolan È stato ultra stonks Col bug del cavolan Tu eri one shot Ti hanno pushato in due Figa Ti hanno pushato in due Fatti full GG Ragazzi Grazie Grazie Troppo forte Nico my god Lo so 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 Grazie Steghack Cioè non so Uno che ha un'ora a disposizione Per giocare Minchia Non è che si metta a fare 20 minuti di me Ci metti in per fare Due partite Dai cazzo C'è uno che lavora C'ha due ore la sera Madonna Si deve stare là Per fare due partite In ranked Madonna cara E in partita E in partita perde Perché sei Che divertimento Cioè fai più tempo In lobby che in partita In ranked Zio cane Ma ci fosse un incentivo Ci fosse un incentivo Almeno dici Vabbè c'è il premio figo No il premio è sempre Quello da 10 stagioni Che cazzo mi frega Del badge animato Infatti sì Ma che ce lo fa fare Di rankare per un badge Che io ce n'ho uno E manco lo metto Perché Io ne ho tipo 6 Ne ho tipo 7-8 di badge master Di cui 5-6 animati Che cazzo mi frega Da averne un altro Cioè quello è il fatto Non c'è un incentivo A giocarla La scia Eh la scia Ti basta fare uno split Cioè non c'è un incentivo A giocare Sti ranked Cioè ma ancora ancora Si potrebbero giocare Per divertimento Perché ti piace la mod Ma Cioè se il matchmaking È questo E devi stare più tempo In lobby che in partita Chi cazzo te lo fa fare Cioè Assurdo Ma chi se ne del badge Si fa per il ciondolo Che merda I ciondoli delle ranked Mamma mia Unico ciondolo Delle ranked Che uso È quello della serie 3 Gli altri Uno più brutto Dell'altro Veramente orribili Quello con la ruota Mamma mia Immaginati Che fortuna raga Ho trovato un lombo Poi adesso ora 20 minuti di matchmaking Figa manco mi ricordo Come si spara Oh non mi è calcio Un cazzotto Un è salito 20 minuti di matchmaking Non c'ho niente io Non c'ho niente Non posso sparare È bellissimo È bellissimo Il ciondolo Ranked season 3 Secondo me Io lo uso sul flatline Stupendo Secondo me No Non è vero Che non è morta Mercato 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 Raga Non è vero Che non è morta Con quel lit C'è un cazzo C'è un cazzo C'è un cazzo Ho 25 munizioni Adesso io Insomma Non si sa Biagio Non si sa Le ranked per ora Hanno solo annunciato Il rework Si scoprire domani 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 mettono Domani mettono L'articolo Di cambiamenti Davanti a me Minchia l'ho detto Abbiamo passato più tempo In lobby Madonna Ho lasciato prowler Caricatore viola Ho preso il prowler Sì Ora lo mollo subito Infatti Sia mai Che palle Che mi poggia gli accessori Madonna Questo bug lo odio Che rottura di cazzo Ma che poi lo fa solo a me Sta roba Voi non ve ne lamentate mai Che quando raccolgo gli accessori Li devo sempre luttare due volte Perché me li poggia sempre Ormai ci ho fatto l'abitudine Che raccogli una cosa Te la poggia sempre nella cassa E ci devi rifilcare Cioè non te la raccoglie mai Alla prima botta Sempre alla seconda Raga Aspetta Mi è entrato qualcosa nell'occhio Fatevi il fight Ok Madonna cara Cazzo mi potevo slurpare una kill Mi era entrato Un 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 MV Nesox nell'occhio Sì 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 E non so Ma infatti come cazzo è possibile La polvere tipo Beh Niente Ah Un MV Nesox nell'occhio Sì 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 Un MV Devo rimettermi in setto Eh no Nel letto non ancora Una particella di Di sborra fluttuante Alvaro Cristiano Alvaro Murata Vai Lo faccio Lo faccio Flexo Flex Flex Vai Solita cosa che dico sempre Sul Su Murata Ah Che la segretaria La segretaria di mia mamma È la cognata È la cognata Del No la cognata Come cazzo No non è la cognata Come cazzo si dice È la zia Cioè È la zia Di Di Della fidanzata Della moglie Di morata Di Alice Non mi ricordo Non mi ricordo se la zia È imparentata Non mi ricordo Che cazzo di parente L'ha Non mi ricordo Che parente L'abbia con Posso fare un flex Invece io E Allora Nelle giovanili Gattuso Quando mio padre E lui Avevano 15 anni Che giocavano Nella stessa squadra Gattuso era Il sostituto Di mio padre E poi Gattuso è diventato Gattuso E a mio padre L'hanno fatto smettere I suoi perché Non studiava Andava male a scuola E niente Per fortuna Che tuo padre Ha smesso Se no Non avremmo mai Avuto Gattuso Palesemente Esatto Ma Eh Beh Conta che Gattuso e mio padre Si scambiavano i vestiti Venivano a casa Qua Vicino a me Mi regali una maglia Di Gattuso Che Eh no Non sono più amici Ma hanno perso Hanno perso i contatti O sono ancora in contatto No 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 Ancora no Ancora no Anche perché Se si rincontrano Si riconoscono 100 100 E via Gattuso Mi sento da me Madonna L'abbiamo scoppiato Sì Abbastanza Ovviamente Sarà una Lightline L'altro Ma è effettivamente Di qua Ma è andata a caso Ma infatti E qua E qua E qua E qua E qua Vota Lo senti Crypto No è un altro team No è lui E lui E lui E lui La davanti Qua Devi venire subito La tripla La tripla La tripla Di Nico Ma fortuna Che ho spaccato La ulti Se no prende Il big Ah ma Lei rotta Ah e minchia Sì perché mi ha lasciato 20 di vita Mamma mia Che giocata di bota E' un'eternità Vamonos Devi arrivare Praticamente All'ultimo prestigio E' molto Molto Devi arrivare Al livello 344 Del secondo No non è vero No è impossibile E' all'ultimo prestigio Che è No no Del secondo prestigio Quello Che stai per arrivare Tu sì Davvero Del terzo Sì raga Hai fatto 80 flash Raga io ho effettivamente Cusciato un altro team Mi chiedeci Ma rigoda L'ho fatto e confermato uno Vado via Ah godo Arrivo da voi Mamma mia Noi avevamo un altro team Sì sì Qua erano due team Che fightavano E ne ho fatto uno Cioè ho fatto una persona Sono ancora qua davanti Che fightano Tra l'altro Qua a sinistra mia Qua davanti a me Davanti a me Sotto In open Completo qua Gibo in bolla E via Sì 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 Veramente Molto Molto simpatico Ah davvero Ce ne stava uno vivo là Quanto seba Una appena restata La sopra La doppia di Nico La doppia di Nico Sì 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 Sono 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 il fottuto dio Delle kill rubate Sì go È la persona Che più odio Nel giocarci insieme Eh grazie Grazie Me lo dicono in tanti Non sei l'unico Mi odiano Mi odiano tutti Cioè Normale Normale Air King Jumped Su due one shot Guarda se li prende entrambi Ma porca troia Mamma mia Stavo 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 Ma va Ma va Che arrivi Uno ne ha responato Vuol dire che sono due full C'è neanche qua E' certo Lo prendo io E' certo Lo prendo io Non è vero Cazzo Quasi la tripla di Nico Non è vero Peccato Peccato Beh vabbè dai raga Siete stati fortunati Stavolta non ero Non ero pronto al 100% Dai Siete stati Siete stati fortunati Ehm Ai tempi d'oro Mi sarei preso anche lui Ma sì Vabbè dai Vabbè vabbè Comunque Quanti assist avete? Due io Io due Minchia Vabbè c'era l'altro giorno Con G Shadow Weep Andiz Avevo 13 kill Zero assist Il fottuto king Delle kill rubate No Sì Godo Va bene Top 3 11 kill 1300 danni E' certo eh Facile 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 Io ho 1490 danni E 9 kill Vabbè Ah cazzo Ma C'hai 9 kill Anche tu? Che cazzo 3 Non pensavo Non pensavo Davanti a me Davanti a me Davanti a me Full team E occhio raga Che sono full vita Non so se li riesco a fare Ma dobbiamo andare Quasi colpiti Ma che stanno facendo Ma questi sparano Di Elstar da lontano Ma che fanno Non è vero 1 1 Grazie Almeno 1 dai Che l'altro L'altro l'ho quasi rubato Ma Bota non l'aveva lasciato abbastanza One shot Siamo stati noi Jump No potete Eh non ce l'ho Non ce l'ho la jump Crackatuno Vai Buono Eh l'altro l'ho quasi rubato Ma Bota Non gli aveva fatto abbastanza Eh minchia Non gli avevi fatto abbastanza Con 20 non l'ho rubato Si ho rubato Eh Ma si Devevi fargli un po' di più Si 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 Ho 30 leggera Te ne posso mollare io Mi mori qualcuno Davanti a me Che roba Ehi ho rotto lo scudo a un nemico Più veloce Più veloce Più veloce Il velo cadere Minchia che schifo Non gli ho fatto niente Madonna che schifo Madonna che schifo Sta Sta roba di 99 Che tara che è in piedi Non c'è avanti No no vabbè No niente Bota che mi ruba il kill leader Addirittura Nel nemico Ha tirato fuori Nel nemico Da questa Codo Mamma donna No capicenda Codo No capicenda Codo E il kill leader Lo tiene Nel nemico Madonna 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 il blood Ho missato tutto Mannaccia Bastardo Eh bastardo Il blood L'avevo lasciato Un HP Ho missato tipo Due caricatori Di 99 4 hit di win Mamma donna No no peccato Ero nel mio prime E poi Gli ultimi fight Non sono stato al livello Bastardo 27 kill in 3 E 25 kill in 2 Bella partita Bota Bravi 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 Sai Nico Che Ieri Potevo farmi le 20 bombe Con Watson E Quanti erano Erano 16 In realtà erano 17 Però Ok Me ne son fatto uno La roba Tranquillamente prenderselo Ressardo E tutto Qualsiasi cosa poteva fare Ciao Daniele Preferisci acquittare Al posto di Giusto così Giucare Giusto Giusto Ma magari avevano già acquittato Gli altri Ha acquittato per qui Ma sì Ma era lui Era l'ultima squadra Mi son fatto la life C'era la roba So poteva prendere Poteva far qualsiasi cosa No fammi Se oggi Che abbiamo fatto 3.966 Davvero Sì anche lì Un'altra roba Che mi troll Le 4k Pure oggi Vabbè ma ce li avevi già no Sì ce li avevo E allora Sì però Ho battuto il zona Oh la lobby Che lagga No aspetta Ma è un bait Era un prank Zero armi In una casa intera Sì No non è vero Non è vero Era un prank 99 Che bello Un botto Il re dei prank Il re dei prank Io ho 99 volt Onestamente non male Ho lasciato il volt Tieni i colpi Mamma mia che salto Che Atle Atleti Che atletico Sono andati via Sono fuggiti Perché sono fuggiti Sono qua davanti Sì sì Godo tantissimo E l'altro è armor bianca Io mi butto su quello sotto Questa qua Divo No raga da sopra Da sopra Da sopra Mi si butta addosso Mi si butta addosso Zucca Madonna Che culo di merda Che ho Cioè no No sense Veramente Massa forte Massa sculato Stavo one shot Sono sceso qua sotto Uno swap viola E due swap blu Cioè pure se mi avesse Ricraccato la viola Avrei avuto altri due swap blu A disposizione Immagina Questo è quando il gioco Ha deciso che devi perdere il fight Mi dispiace per lei Non poteva fare niente Mi è stata brava Ma non poteva fare niente Cioè Ma raga sto pat Che è tipo sopra di me C'è un pot Sì 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 Da me Da me Non capisco dove Ha restato Ha restato il mio No no Preso Ok lo vedo Qua Qua Mamma mia Godo Densi bossi Ho provato a usare mire e spara sui dorsali Ma perché Ma perché Cioè Vabbè Fa un sacco di gare Eh sì Immagino Cosa Non so se vale È troppo facile per Panditz Ma per Panditz Sì 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 no È troppo semplice per lui Non so se vale Troppo semplice per il boss No ma non so se vale Per noi giocare con Panditz Addirittura Cioè Mi viene al dubbio Per forza Mi viene al dubbio Cioè non so Non vorrei essere accusato Di fare partite non legit A giocare con lui Bustato Eh Non vorrei essere accusato Sì Comunque Nico Ho fatto quella cosa lì Di con Watson Alle due di notte Tutto Sì 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 Eh sì ma niente Niente? Ma l'hai vinta la partita? Sì sì Strano Ma eh Ho fatto pure 19 kill Eh no dovevi fare le 20 bombe Ecco perché Ecco perché no dovevi fare le 20 Eh ma non me l'avevi detto Eh no mi sono dimenticato Eh però Me lo dicevi Vabbè ma ci puoi riprovare Ci puoi riprovare Perché in verità Lo puoi fare ogni Ogni giovedì sera Quindi ci puoi riprovare Ah ogni giovedì sera Sì 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 Va bene Grazie error Grazie per la resa Error not found Dimmi una leggenda Da metterlo tutte Mad Maggie Top leggenda Eh oh Perché quando te lo chiedevo io Non mi cagavi? Eh Eh no ma era Sì Era un prank Sono con Watson Per colpa tua Lo sai Eh Ma io non ti Non ti cagavo Perché tu già usavi Mirage Che è la leggenda perfetta Cioè non Sì ma Mirage Era troppo semplice Pushavo Morivano Eh Sì sì ma infatti Anch'io ho smesso A parte Minchia Mirage Lo devo portare A 10k Mirage Prima o poi Manco ho fatto Le 5k Ancora sto a 4.800 Male male Eh male male Sì sì malissimo Uno schifo proprio Che schifo Immagina non avere 10k su Mirage Che schifo Comunque Ho scoperto che Con l'ultimo team Ti puoi fare All'incirca 6.000 danni 6.500 danni Eh hai visto Sì sì Hai mandato Pazzesco Pazzesco Ma quello Skillatissimo Skillatissimo No ma era molto bravo Quel giocatore Era molto bravo Quel giocatore Secondo me sì 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 Può essere C'erano gli avversari là Che erano fermi Si facevano farmare Non capivano proprio niente Cioè È stato veramente bravo Ma che la cava Una poverina Eh Bella Andross Sono qua davanti Fa so C'è qualcuno Lì L'ho C'è qualcuno Au Oh Dossissimo Perché mi hai aiutato N'è qualcuno Eh devo fare i danni Mediapartita Mi servono leggere Ragazzi Ne ho zero Ho lasciato One Un ore Sono sotto G shadow Dimmi che hai leggere E non hai leggere Fuck Eh questo Ok Grazie Mi sono dimenticato Di parlare 99 Secondo te il campo visivo Va bene a 100 Sì io gioco Con 100 di campo visivo Eh Metto in casa Abbiamo un Watson Sfruttiamola Io gioco con Io gioco con 100 Nel principale Con 110 Nello Nello Smurf Per dire Raga 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 Qua Ma Ma veramente Ma raga Ne è salito un altro qua Godo Bravissimi No G shadow Fullati Fullati Chiudi la porta Fullati Vai Ho visto che piccavi Vai con ultra calma Fullatevi entrambi Ce l'avete Siete due di uno G shadow Guarda la porta Smettila di curarti Guarda la porta Due secondi Ok Bravi raga Bravi Dalla porta Dalla porta A davanti 140 Dico 120 140 Da morire Presa 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 Fablito Minchia Un altro team Non lo so Siete voi Voi io mi devo fare Phoenix E via Madonna Watch 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 Arischio Devo lottare loro Sto ancora con Una sega di leggera Vediamo C'è due Da qualche parte Ma questi Le hai lottati Ma non Ha una sega Questi Vuoti Completi No C'è No niente Un capperetto Di Bruxelles Che schifo I capperi Mamma mia Hanno respawnato So Vogliamo andare In teoria Quale respawn è questo? In teoria In teoria possiamo provare Vi saranno Una batteria Io ne ho due Non capisco come ne abbia solo due Visto che mi sembra di averne raccolte tipo 80 Vai vai tutte tue G shadow Tutte tue Tutte mie Sì 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 Adesso Sono buone Le batteri Sì Sì Non male Non so se sono timido Cosa Uno è blu Per caso? Ho preso uno Dove sono? Non lo so Cioè Quello con nocata qua Nel senso Grazie Tony Grazie per la risabba Spero che ci potremo divertire insieme stasera E nelle private Sì 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 Tony Vabbè ma se Se finiamo in team insieme nelle squadre random Ma già lo sai Palese vittoria assicurata Come l'altra volta Era fermo sul cannone a trollare Era quello appena risponato Ma io non ho pietà di quelli che trollano immobili Cioè Le kill sono kill Devo arrivare a 100k con octane brother Mi dispiace Che cattiveria però questa execution devo dire Cioè Devo fermarmi le execution Anche io Sono a 400 su 50.000 kill Devo farmare Devo farmare un po' Eccolo Ma sopra? Serampica Sopra No che palle raga Non facciamogli prendere il cannone Please Grazie raga Grazie Che bello Che bello Mamma mia quanto sto slurpando Secondo me vinco la gara di assist Ma se Io ne ho 0 io 0 io Io 6 assist Io 4 Io 0 Tutti quelli a cui sparo muoiono Pazzesco Cioè 0 assist è difficile Io 9 0 assist è difficile farli Cioè Cioè nel senso vuol dire proprio che tutti quelli Che colpisci li killi tu Non vengono uccisi dagli altri Ed è difficile fare 0 assist Oh mi hanno visto È più difficile farne 0 che 10 Vediamo se riesco a finire con 0 Quindi hai fatto una tripla tripla Eh Sì 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 mi sa fatto No 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 Perché Dell'ultimo team ho ucciso io la Bangalore Quindi ho fatto Doppia Singola E due triple Mi sembra Niente tripla tripla Ah tra l'altro il badge della tripla tripla Io non mi ricordo con Octane Se ce l'ho a 4 o 5 Full team fatti Sì sì no ma intendo Perché tu anche se ce l'hai il badge Puoi vedere quanti full team hai fatto Che tipo ti dà 4 su 3 5 su 3 Cioè puoi vedere Perché il badge è 3 full team fatti Però potresti aver Eh Potresti averne fatti anche di più Di 3 full team Ok è salito verso il respawn E quindi dal badge puoi vedere Quanti full team hai fatto al massimo In una partita Io Se non sbaglio ce l'ho a 4 Non mi ricordo Dopo controllo Io ho 12 skill Qua in open 4 11 quindi Ok no infatti sono almeno 2 Ma gli ho fatto 70 viola tipo Non gli ho fatto tanto Eh provo ad allargarmi Io sto giocando di Avok Ma da media non prendo tanto Infatti L'ho detto io Ma scusami Come How did you How did you How did you Simi Uh raga Ma uno è morto qua Grazie Facile facile Sì sì 10 kill 0 assist E si goda e si continua Guarda tutti i colpi Flock house Ma so Un tisolo Raga nocuno Andate 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 Sotto l'altro Cazzo no Risco di prendermi un assist Non deve succedere No mi sa l'ho preso Mi sa l'ho preso L'ho colpito per sbaglio No No ho fatto un assist Non è vero No ho rovinato tutto Non dovrebbe essere Full team In teoria No è full team Provo ad andare indietro In caso entriamo In caso entriamo Se volete entriamo due secondi Venite venite Eh mi dice che non ce la faccio Sì ce la fai ce la fai ce la fai Vieni vieni Minchia Ti hanno manco sparato Ragala Bravo 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 Minchia ho smirato Prego prego tranquillo Tranquillo Ho smirato all'ultimo Me lo sei ripreso Che diavolo L'ho detto che Non mi sento confidente al 100% Nooo Easy Cazzo No incredibile Dell'ultimo team Non sono riuscito a prendere nessuno Alla fine Eh sono andato Sono andato di cazzotti Sul mirage Solitamente Solitamente tiro i cazzotti Così forti Che li one shot Qua è sopravvissuto Non ho capito come sia possibile Come ha fatto E niente Troppo semplice Sono addirittura arrivato a 4 assist Mi sa pensato a 0 No 3 dai Vabbè No no Io ho 8 GG 8 8 8 Mamma mia Eeeh GG pandiz GG Dai G shadow è piccolino Non è molto pesante sulle spalle Ah Ma com'è stata la partita? La velocità del shadow Eh? Dominio inter La io avevo creato poche poche occasioni Strano Solitamente la Juve crea un sacco di occasioni Solitamente a Vlaovic Punta della Juventus Arrivano 6-7 palle nitide da gol a partita Sì Eeeh Solitamente la molle di gioco creata è veramente ampia Strano Strano che si siano fatti dominare Incredibile Quanto godo Quanto godo Eh sì eh Ma sono in stricca Sono a 4 giorni di fila da 6 ore di live Dovremmo dare Sono in stricca Perché c'erano trailer Ridenti E robe varie Ti prego no Ti prego no Ti prego no Torco giudo Ogni volta è così No G-shot Dammi la porta Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Ti push Ti hanno fatto a pugni Seba No Volevo spammare execution God Ti erano lendati a cazzotti Da me sono morto Non per me Eh ma Se riuscite a arrivare da me Mi aiutate No No raga Zero forse Zero forse No 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 Raga 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 Mi conferma raga Mi conferma Mi conferma No 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 Seba devi arrivare Seba devi arrivare No è 1 è 1 E' l'ultimo ed è 1 God Lucky Laura 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 Dai Avanti Avanti Laura Avanti Laura Lucky Laura Ma non sei stata molto fortunata a incontrarci Codiazza No mi sono beccato 83 parti di fila non avendo colpi Veramente Eh il tuo portafortuna sono morto Sì ma Non pensavo che Lucky Laura Sarebbe riuscita a perdere un fight Full vita Contro uno con 20 di vita E Due colpi Ecco Ecco Avevo sopravvalutato Laura Infatti ho detto pure mi conferma Eh già Ma sono tornati i colori di piazza Eh? Sono tornati i colori arancione e nero E perché che colori c'erano? Eh quelli bianco e rosso Se ne erano andati arancione e nero Ma figa Pensavo che tu stessi parlando di piazza Vabbè lasciassi Anch'io Pensavo che avessero cambi Grande Pensavo che avessero cambiato i colori di piazza Vabbè Raga sono morto Raga sono morto Raga Ma che palle oh Quanta vita aveva questo Oh mio Dio La magia era proprio craccata precisa Aveva full vita a parte lo scudo Cioè Infatti se hai swappato L'ho dovuto fare i 200 Grazie Rube Se hai swappato L'ho dovuto fare i 200 L'ho dovuto fare Ehm Flatline No Resto di Rampage Fanculo Rampage Wingman Let's Fucking go Rampage Ah Raga mi servono 99 Ehm A me servono termite Se le trovate Ne ho solamente due Beh la nutriamo Solamente due termite Ne utilizzo due per fight Me ne servono altre Ok ho preso il carro Boh non avevo il Nico Rosico 3998 danni con Bangalore Eh io le avevo fatti con Blowdown 3998 3992 con Watson 3997 con Vraith Poi le ho fatti tutti Però Watson no No Watson non ancora Esatto Poi avevo fatto 3995 con Vantage Tipo Anche con Catalyst Sì Terribor Terriborato Si che ero rimasto in 1v1 Col Mirage Tipo Una cosa simile Non mi ricordo Però si Che poi il Mirage Cioè l'ho vinta io la partita E che il Mirage Non si era curato Eh si si Infatti era anche una grande partita Cioè non avevo fatto i 4k Ma avevo tipo 13-14 kill Poi Non l'ho fatto Shin Ah forse ho capito Io ieri Io ieri quando giocavo Ero in lobby play Quando ho staccato C'è stato il bug E quando ho riattaccato Già l'avevano fixato Io ho fatto 0 partita In lobby pc Ah Boh Fightavano qua C'è un market qua Bota Palesa Sei tu Stanno andando E allora spammo steam Odio Un è ancora in casa L'uva è qua Sì beh qua Un è andato Un è andato Godo 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 L'ho detto la rampage È l'arma perfetta Non mi vengono mai rubate Le kill solo la rampage Top arma cazzo Top Cazzo Arma cazzo Mi serve un caricatore Per la wingman Non lo troverò mai Infatti in mezzo Che su acqua Godo Che culo Che aveva questo fenomeno Ah beh la wingman Bravo Pensavo avesse tipo Il sentry Nello lombo Il rampage caricato È troppo forte È troppo È troppo più forte Di tutte le amiche È troppo forte Soprattutto quando la gente Si mette alle porte Raga ho lasciato un nemicis Fu l'accessorio Con 188 munizioni Non le uso Non le uso Quelle armi da scarso Io gioco solo rampage Che non è un'arma da scarso Assolutamente Cioè Insomma No ma neanche Pobbe Godo andiamo a Castigare noble rick Ma noble rick Proprio lui Il tiktoker Quello Noble Noble rick L'amico di gigamex Noble rick Noble rick Che c'ha un 99 qua Che è tornato su Apex Dopo 8 anni di Sai che mi dimentico Di raccogliere i colpi Prendiamo il cannoncino Goto Proprio al limite Cazzi 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 Che ragazzo è allogs Così Cazzi che è allogs Madonna Madonna Me lo sento che noble Che noble rick Noble rick Morirà Al prossimo fight Prima che lo incontriamo Eh dai siamo top 4 Però Magari Magari no Io vado con due termite Perché non mi sento Non mi sento confident Quando ho una termite sola Che se la faccio Rimango con zero Qua c'è stato un corposo fight Sì Qua li sento Li sento Li sento Non ho jump Per il top Un esterno forse Sì Lo vedo Guarda una da me Minchia Un clip out Ma raga non è vero Ti ho salvato Ti ho salvato Ero one E via Ti ho salvato Flau Ti ho salvato Ti ho salvato Ti ha salvato la vita Arrenditi E vuoi salvare Che l'unica cosa che serve Ti ho salvato Ero uno Mi vuoi ricordare Deve non cererlo Ma Che bello Lutare le casse Dei livelli bassi Che cazzo Si portano sempre Dietro le termite Completamente a rando Sì Con un caricatore Mi hanno fatto dieci Secondo me È noblerico Porco cazzo Ma la vintage No vero No raga Non ho la 99 Come secondaria Vabbè No No Speravo che Rick Fosse questa qua Perché questa L'avevo sbombata Di Di Wiman Cazzo Avevo fatto gli altri due L'ho ucciso io Era La vintage La valkyrie No la valkyrie Ah vabbè L'ho uccisa io allora Sì No mi stile lobo Che si stava Vabbè La Rick Rampage caricato Let's go Arrivano raga Arrivano E E via Facile Facile Il caosic Mi è allenato addosso Figa Ho dovuto fare Quattro girotondi Prima di capire dove cazzo fosse Mi era sceso in testa Mi era sceso Mamma mia Mamma mia Oh di Wiman Sta partita non l'ho missato Ma credibile Mamma mia Godo E si torna A farmare 11 kill A cazzo Dovrei aver fatto le Le 56k Non ho idea di cosa sia Non ho idea di cosa sia Cos'è un anime Una serie tv Un cantante Un giocatore E No Mi sembra ovvio Appaia nei Appaia nei E cos'è Eh tipo C'è Una cazzata Tipo Taveo Del genere Che Tu dici tipo Delle parole Che non si capiscono bene A uno Lui ti dice Eh E tu gli rispondi Appaia Ma perché Una stronzata incredibile Cioè dovrebbe far ridere Dovrebbe far ridere ma Ok Abbiamo quattro armi energy in tre No no io ho da chi Aiuto a morire Perché Andrò a cagare Ehm Sentorivo Sono qua a destra Anche Qua sotto da me Ma dai Che palle Raga Non credo si Molto low Boh Il terzo dei miei E' scappato col cannone Io non ho più pure Io non ho più Il terzo dei miei E' scappato col cannone Non credo si rialzeranno Eh non capisco raga Hanno confermati Quattro Ma qua stanno in venti cazzo Dai quitta Quitta Brite Quitta Quitta Dammi la kill Da tutte le parti Stanno in ventisette Diverso Sto fanno restare Non lo so Bata Non credo si rialzeranno Non Non ti so Non ti so rispondere Qualcuno arriva da me E arriverà a recuperare Forse Mi sa che vuole recuperare I banner di teammate Ma ha visto GG Che fa che ci guarda Buoh vabbè Onesto Adesso arrivo da voi Ho finito la mia partita In solitaria raga Ma vi serve aiuto O li avete finiti tutti ora E via No vabbè Io mi son fatto la mia Goto 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 Da sotto o da sopra Vabbè dai Ma figa Mi sta rompendo il cazzo Posso dirlo GG Horizon Così Deve Deve fare la sua Rottura di cazzo No Bota Vaffanculo Cosa Stavo andando all'altro market Figa Ma me l'hai tolto Sì ma Tanto non c'è un cazzo No lo so Ho visto No c'è veramente una sega C'è nulla Ho preso col market Il caricatore Che hai lasciato Not bad Ciao Samuel Più veloce Più veloce Più veloce Più veloce Ho visto così No c'era nulla Manca un caricatore Tra l'altro Ah ma siamo ancora tutti e tre Con le energy Mamma mia Io ero 25 Bo io prima ho pushato uno Mi son beccato un posto In cui ce ne stavano Quattro a terra Non miei Tipo erano rimasti In 1v1 allora Weee Madonna ma ha spaccato Arriva se va Tranquillo Altri Eh bota Eh figa Sì ma non ci sono Io son giù Bota shield Shielda shield Questo è Che devi fare Vieni vieni No si va Vai 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 Caccato No ce l'hai dietro Shieldo Gibraltar Ti pusha subito Te la finisci Te la finisci Te la finisci Non arriva dietro il muro È stupido È qua Ha bollato Ha bollato Madonna Chiappe strette Ziocca Ciao Furetto Immagina Immagina lui che aveva Gibbo con Gibbo col PK Ha perso il bubble fight Io caro Carico gli scudi Che palle Che sulla Mi fossi one clipato la venta e già sarei stato full contro il path Purtroppo ho dovuto suo fare Purtroppo Eh qua c'è verbo un bel morto Eh ma penso Quanto manca? Poco? Ah ce l'hai Ma ragazzi Cioè ho capito che abbiamo tutti le energy Ma figa un caricatore Prima o poi Io posso averlo anch'io Ah non ci sono neanche Ma io non c'ho Sono senza caricatore energy ancora io Ho lasciato le mie 50 energy Tanto non ce l'ho Cioè boh Abbiamo lootato tutta la mappa Sto ancora senza caricatore Ma che cazzo vuol dire oh Eh anch'io lo so Un attimo Devo curarmi Ma se va come va Con la cagata Cioè Eh mi chiedo Eh 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 no Ma quando mi concentro il 3 yard Mi passa Mi passa Easy E il problema è che Ogni game faccio così Poi tra un game e l'altro Inizia a Inizia Davanti a me fa hitano molto Ma inizia anche il game Ehi Patti muoviamoci Sono tutti sopra o tutti sotto Tutti sotto No il cazzottone non è entrato Altri 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 Già arrivati Già arrivati da fuori da me Qua fuori da me Uno E mi rappuntata di wingman Raga che fall Botta ce lo pusciamo Aggressivo Vieni C'è un'altra squadra dietro Dico Calma raga calma No va bene Mi ha fatto 120 di pk Che sbanò ti giuro Ti giuro che palle No metto mercato su 90 di pk Lunita Che c'ho poca roba Dio santo Non è vero Che vitaccia di merda Era quello che sparava a botta prima Che vitaccia 15 batteri Eh Guarda top Ma tu il mio banner Lo puoi craftare Anche se non è ancora scaduto Vero? Certo Sì E me lo potresti craftare al volo Ce l'hai là libero Cioè piuttosto che prenderlo Che ci sono due team Avete anche un portatile Dal market non c'era Minchia sarebbe sdrogo Sarebbe Perché ho anche il loot qua Sarebbe veramente tanta roba Tra quanto ce l'hai un market bota? No ma non ho occupato tutti i slot Ora vado a vedere Ah Perché si è beccato un portatile Lo sennò anche dietro Comunque corrispondi Dietro mi riluto Prima che chiudo la safe Così mi riluto qualcuno full Veloce Qualcuno di quelli dentro Quindi Trovato? Mamma mia che goduria Io ti giuro comunque No a destra te lo faceva mettere Eh perfetto Ti giuro è incredibile Cioè Bangalore one shot 90 di pk Codiaz Ma la mia cassa è free Mi posso rilutare? Sì sì Eh sarò già suappato però Eh mi prendo E in caso mi prendo una viola al volo Manco dove cazzo No eh vabbè Eh rupi avanti Rupi avanti Sono sulla roccia Trovato Vabbè ma sicuro mi ha suappato Cioè è suappato sicuro No Pazza Fica era one shot era Non mi ha suappato GG Io ho le cose Vediamo se hai colpi Ah non hai colpi Non hai colpi Quali quali quali? Eh per il card Tu hai 51 energy Basta Ok Non ho colpi Le posso dare io le leggere Quando hai finito Con il mercato Dimmi lo Te ne rimetto un altro Ok 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 No ho finito ho finito Mi sono preso i colpi Visto che là non li ho E dovrei stare a posto Ecco ho preso un botto di pesanti Un botto di Mi riesce a mettere Avete un Termico No Ci holdano in tre qua Spence di Watson Trappole di Catalyst Dov'è la mia cassa raga? Eh lì alla roccia Ma dove c'è il market? Trovata 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 Allora Minuto ci sono Ma cazzo Ma fa tutto lo zaino E io arrivo Io ci sono Io ci sono Io sono full loot adesso Eh due secondi però C'ho l'ultimo merito Due secondi arrivo Eh non facciamo il giro Vediamo Cazzo non ho raccolto Il caricatore energy nel market Dov'è la mia cazzo Dov'è la mia cazzo? Dov'è la mia cazzo? Fermi con uno anch'io Ma loro sono dentro o fuori? Sì sono Che rompi coglioni Vabbè armatura blu Raga dai Che cazzo Non ci credo Uno di vita Un'HP Ci ho provato No altro team Non è vero Non ci vedo Non ci vedo niente Eh infatti no Due con un HP Resta 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 Viena il sale Con due con un HP Ma sei tre il resto? Li hanno presi da dietro Li hanno knockati due Li hanno knockati due Vieni 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 Senza Senza Eh mettilo Vabbè Ora ve lo metto Ora ve lo metto Eh io ho reso botta Al volo Perfetto Eh Parti la terza raga Tra poco Rusciamo a rompere Due di queste barriere No forse ci aiutano anche Lo so lo so Chiudo un attimo E lo chiamo Eh per quanto possibile Figa Madonna Non ci sono Eh ci sono Cazzo ci ho provato Peccato Peccato Cioè figa Si è preso Eh Si è preso Due colpi di Wimman Due che due No Si o poi Qua la tecnica Inico male male Ho provato ad andare in mirata Gli ho fatto entrare solo due hit Poi era da Non so se piangete più Bota o Arta ai tempi Aia No vabbè Ma Arta ai tempi però Piangeva per il gioco E senza motivo proprio Cioè piangeva Piangeva per cazzate E via Godo Bota che non ha fatto un cazzo Ah Bota carriato Chi è che ha risponato Chi è che vi ha rianimato in due Fuori safe Eh Eh dai Bota Ragazzi vi ringrazio per la visione Se il video vi è piaciuto Supportatelo Iscrivetevi per non perdervi i prossimi Anche video normali Meno lunghi di questo Ogni tanto li pubblico E se siete interessati Vi aspetto tutti i giorni su Twitch Non fate i timidi Trovate il link nel primo commento in evidenza Buona serata